E' stata effettuata l'operazione Solidarietà di Coldiretti in provincia di Biella. La federazione si è resa protagonista della consegna di pacchi contenenti cibo per le famiglie bisognose del territorio, destinati alla Croce Rossa di Biella e alla Caritas. Abbiamo donato 900 kg di prodotti di qualità alle persone che hanno più necessità, spiegano il presidente della Role e il direttore Toscani. I pacchi contengono tutti i prodotti made in Italy. La consegna è stata effettuata all'assessore di Biella Isabella Scaramuzzi. Una segnale di speranza per il paese e per tutti coloro che in questi mesi hanno pagato più di altri le conseguenze economiche e sociali dell'emergenza Covid. E' il commento di Isabella Scaramuzzi, assessore alle politiche sociali. Quest'anno abbiamo deciso di consegnare i pacchi a due associazioni con cui lavoriamo quotidianamente, la Croce Rossa, che sostiene il progetto Biella Solidale, e Caritas, che destinerà una parte delle donazioni agli utenti e una parte alla mensa di Via Novara. Dalla Caritas diocesana e dalla Croce Rossa fanno sapere di aver apprezzato moltissimo questi pacchi, che hanno permesso di raggiungere anche le persone bisognose, che in questo momento sono in quarantena e sono impossibilitate ad uscire di casa.